Passiamo alla votazione dell'articolo 7. Stiamo votando l'articolo 7. È aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 7. Dinka ha votato? Sì. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 7.01 Invernizi, parere contrario di Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ascani, Fanucci, Minardo. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 7.02 Invernizi, parere contrario di Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Tidei, Lattuca. Lattuca, provi? C'è qualcosa dentro la postazione? Ecco qua. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.03 Invernizi, parere contrario di Commissione Governo e relatrice 5 Stelle, favorevole relatore Selle. È aperta la votazione. Di Benedetto. Tancredi, è a posto. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 7.04 Invernizi, parere contrario di Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Contenete l'entusiasmo dell'onorevole Ricciatti. Ci siamo? Grillo. Mi pare che ci siamo. Pes e Crippa. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 7.05 Nuti, parere contrario di tutti, compreso il relatore 5 Stelle. Non so se è giusto, ma è così. È così? Lei ci ha favorevole, io ci ho segnato diversamente, infatti mi pareva un po' strano. 7.05 Nuti, parere contrario di Commissione Governo, relatore Selle, favorevole relatrice 5 Stelle. È aperta la votazione. Allora, diciamo, c'è un po' che è mal di pancia. Ci siamo? No, no? Chi è? Gadda. Chiusa la votazione. La Camera respinge. 7.06 Simone Valente, parere contrario, Commissione Governo, relatore Selle, favorevole relatrice 5 Stelle. È aperta la votazione. Ci siamo? D'Ambruso. Piccoli Nardelli. Ora ci siamo, mi sembra. Non devo iniziare. Fico. Fico. Baruffi. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7 bis. È aperta la votazione. Carra. Stiamo votando l'articolo 7 bis. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione. Grazie, signora Presidente. Quell'articolo 8 è l'articolo sulle Camere di Commercio. Ora, è indubbio che i passaggi al Senato e anche Commissione alla Camera hanno migliorato alcuni aspetti.